Su che sia stato un successo netto nel risultato, perché nel gioco onestamente, specialmente nei primi due set, siamo stati sempre un pochino in affanno. Credo che ancora non siamo guariti dalla sconfitta di sabato passato e per fortuna ora abbiamo due settimane di sosta, vediamo se in queste due settimane riusciamo a mettersi in una condizione migliore di quella che siamo adesso.